Ciao a tutti, sono Vito Astone e intanto grazie a tutti gli amici che seguono le mie produzioni ma anche un benvenuto ai nuovi. Oggi voglio parlarvi di questi plettri che ho avuto il piacere di ricevere da un'azienda americana e che secondo me sono una novità per quello che riguarda il plettro per chitarra. Ho fatto una piccola ricerca in rete ed effettivamente non c'è nulla di questo genere, quindi sono contentissimo di aver avuto questa opportunità di provare questi plettri e di utilizzarli, grazie alla Whitney Guitars per questa opportunità. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo plettro. Sono realizzati in una fibra di poliamide da 2,5 mm con una piccola percentuale di graffite che permette una maggiore scorrevolezza all'attrito. Sono dei plettri che si sentono, cioè non sono abbastanza light, questo comunque permette di avere maggior controllo del plettro. La loro particolarità è sicuramente la forma, perché hanno tre punte che tra un po' vedremo come vengono utilizzate, ma c'è anche un altro aspetto importante, quello della durata. Il costruttore parla effettivamente di oltre mille ore di utilizzo. Per chi suona, per chi è chitarrista, sa benissimo che il plettro si consuma e quindi perde la sua efficacia, la sua efficienza nella plettrata. Vi invito a visitare il loro sito e ve li consiglio, perché io dopo 20 secondi di utilizzo mi sono già trovato benissimo e comunque il suono viene caratterizzato tanto da un plettro come questo. Vi ringrazio, vi aspetto sui miei social, su Facebook. Se non siete iscritti al canale vi invito a iscrivervi e ci vediamo presto. Bene, come potete vedere il plettro ha una forma particolare perché presenta tre punte, tutte e tre utilizzabili durante l'esecuzione. Questa che è la più evidente, molto utile per gestire bene l'attacco delle note e avere un ottimo controllo nell'esecuzione. Poi ne abbiamo un'altra media per rendere leggermente più morbido il controllo e le note, ma anche molto utile per generare gli armonici. E infine questa qui più tondeggiante che è consigliata per le ritmiche o per delle note ancora più morbide. a 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